spam di emote io intanto vi faccio vedere l'history la mia history è pagina numero 1 pagina numero 2 pagina numero 3 pagina numero 4 l'ultima è stata kokomi dopo kokomi io non ho pullato più quindi abbiamo un piti piuttosto basso piuttosto basso no niente gufi niente gufi io direi partiamo con la primissima multi esatto siamo a 23 si 3 2 1 via madonna fa che mi esce subito così le primo le conservo tutte quante peritto toma ti prego toma toma saio non mi dispiace saio è vero non ve l'avevo detto ma saio questa volta non mi dispiace perché mi piacerebbe portarla su di costellazione però appunto alla monocopia di toma saio è un plus quella che proprio non voglio vedere di una raga di una proprio no di una proprio no seconda multi 3 2 1 ok ok no grazie kiro non mi servono ansia ansia yes 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 abbiamo toma abbiamo toma abbiamo toma abbiamo toma abbiamo toma 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 c1 toma c1 toma c1 che madonna che paura it's me julia grazie per il follow mi faccio saltare giuro era un attimo concentrata no il favonius quanto ti odio veramente odio l'arco mi fa paura mi fa paura noe 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 no ok ti prego ti prego vai con toma vai con toma 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 siiii cazzo siiii siiii toma siiii bene 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 andiamo bene andiamo bene così andiamo bene ok ok Per me si può anche chiudere qua Nel senso non ti sforzare a farmi uscire cose Che poi sono cose brutte Così va benissimo Benissimo Yeah Yeah Bene Ci prendiamo anche la c2 Dai la c2 è bella dai Aumenta il crimson o gli eroi di 3 secondi Dai ti prego gioco Dai sarebbe bella la c2 Dai 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 Prendiamocela sì Dai dai Ok Dite che è troppo utopico Madonna sì Madonna sì Sì vai con la c2 Sì Sì vai con la c2 Sì Sì Ho capito No 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 Che faccio Sì E vabbè ma la c3 C'è la c3 è quella classica Nel senso dai La c3 e la c5 sono classiche Sono must have No in un certo senso Quindi Sarebbe utile comunque Avere anche la c3 Puntiamo alla c3 no Nel senso Sarebbe buono Sarebbe comodo Sarebbe comodo Eh Andiamo Via Non mi portare sfortuna Non mi portare sfortuna Perché ti giuro Non ti do più i croccantini Non ti do più i croccantini Ti faccio shakerare Con la sabbiolina Sappilo eh Sappilo Come non guardare ho paura Che? Posso guardare Posso guardare Sì Gigi Gigi Dovevo troppo fare La risata cattiva Degli anime Avete presente Quella che fa Che perutao Ci sa tutta È troppo bellina Sì Mo ci divertiamo Mo ci divertiamo Sono troppo contenta Ma Itto quindi? Nessuno Ci separerà da Itto Sappilo Magari un Tomo Qui dentro Ah no Ci dà già di una Già Tomo Sì Tomo c3 Sì Tomo c3 Ti voglio bene Toma No vabbè Ti voglio bene Benny Ormai c'è il copyright Su quella canzone Quindi ti voglio bene Benny Adoro Cioè di ora e mezzo Ci azzecca niente Però va bene Va bene Va bene Va bene così Allora Fermi Ok Ok no la oma no la oma no raga perché vi spiego vi spiego praticamente io qui ho 1 2 3 4 5 6 7 e altre indefinite quindi sono proprio vicina vicina vicinissimissimissima al piti per l'arma e non voglio pullare per la oma perché voglio tenermi un bordello di primo per quando arriverà itto sicuramente con itto metteranno un'arma e quindi mi serve tenermi tutto per itto partendo dal presupposto itto lo devo costellare ormai lei ce l'abbiamo voglio dire lei ce l'abbiamo ce l'abbiamo c1 comunque la gioco con la drago sbane rancappata 5 in un team full elementale eeeh sayu ecco sayu ce l'avevo già c2 ah vedi pullato la c3 sto bene sta benissimo così no io sto a posto onestamente sto a posto ecco che c'è c'è